Attenzione, treno in arrivo al minario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 5, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al minario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.